E' il peggior disastro socio-economico dal dopoguerra ad oggi. Ha esordito così il presidente dell'associazione Dipenniamo Banca Marche, Sandro Forlani, che ha voluto ricordare Luigino D'Angelo, il pensionato 68enne di Civitavecchia, che ha deciso di togliersi la vita dopo aver visto i risparmi di una vita andare in fumo. 110.000 euro suddivisi tra obbligazioni, un lingotto d'oro e contanti perduti all'improvviso per il crack di Banca Etruria, uno dei quattro istituti di credito oggetto del salvataggio operato con il decreto salva banche approvato dal governo. Il suicidio è avvenuto il 28 novembre scorso ma solo oggi i familiari hanno ritrovato in un computer una lettera scritta dall'uomo per spiegare i motivi del gesto. Forlani oggi insieme ai consiglieri Marco Mariotti e Alba Gabellini ha fatto il punto sulle azioni che intraprenderà l'associazione che ad oggi conta 1500 iscritti. Il presidente è intervenuto in difesa dei risparmiatori trattati da qualcuno, dice, come speculatori, mentre i dipendenti dell'istituto di credito come truffatori. Alcuni di loro sono a casa con l'esaurimento nervoso, altri hanno ricevuto delle minacce, ha detto. In realtà a loro non è stato neppure riconosciuto il premio di rendimento dal 2012 ad oggi, ciò che ha perso fino a 30.000 euro. A questo noi non ci stiamo specifica e agiremo affinché sia fatta piena luce su tutta la vicenda. Se gli indagati verranno rinviati a giudizio, noi ci costituiremo parte civile. Intanto per lunedì 14 dicembre, agli ore 18, è stata organizzata un'assemblea all'hotel Flaminio di Pesaro, rivolta ai dipendenti, agli azionisti e agli obbligazionisti di Banca Marche. Noi di Dipendiamo Banca Marche e l'Unione Nazionale Consumatori siamo partiti con un'azione legale che andava contro gli ex amministratori di Banca delle Marche, cioè contro quelle 37 persone attualmente indagate dalla magistratura, guidate dall'ex direttore Bianconi, che secondo noi hanno commesso dei fatti rilevanti anche giuridicamente, che dovranno essere giudicati e che dovranno rispondere prima di tutto agli azionisti per quello che avevano fatto. Noi riteniamo che anche nella fase commissariale siano state fatte delle cose non consone alla guida di quella fase appunto, per cui chiederemo che si faccia luce piena anche su quella fase. Forlani in conferenza stampa ha mostrato una lettera indirizzata all'amministratore delegato di Nuova Banca Marche, Luciano Goffi. Nei prossimi giorni, si legge, centinaia di clienti si presenteranno agli sportelli della banca con la richiesta della documentazione necessaria per poter accedere ad un'azione legale per il riconoscimento del danno subito. Si chiede quindi di rilasciare questi documenti senza che al cliente venga debitato alcun costo, come quello previsto per il fissato bollato o l'estratto conto. Il fatto che queste persone siano state costrette a fare questa cosa non dipende da loro errori, dipende esclusivamente dalla mala gestione di banca Marche, per cui chiediamo con questa lettera aperta che almeno non venga fatto pagare a tutti coloro che ricordano l'azione legale quanto dovuto per i documenti che verranno richiesti e che vengono rimborsate quelle spese che fino ad oggi hanno sostenuto gli stessi clienti che fino ad oggi questi documenti li hanno chiesti.